buon pomeriggio buon pomeriggio buon pranzo dipende da quello che state facendo ben trovati amiche amici rossoneri come state spero che siate tutti bene che stiate passando una tranquilla domenica anche perché tanto non c'è il calcio che ci interessa c'è stasera nazionale con una partita sì tutto sommato leggermente stimolante ma non è il milan non è il milan non è il campionato e io sinceramente spero finisca presto questa bagarre questa questa contine nazionale ogni due per tre beh in teoria dovrebbe essere finito perché poi l'appuntamento è rimandato a marzo però detto tra noi in un mese due soste da due settimane cioè veramente troppo 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 però il calcio fa soldi e i soldi chiamano idee nuove relative a quello che si può fare che ci si può inventare amici miei no ma parveniamo subito al dunque un addio clamoroso anticipato in casa rossonera nel mese di gennaio potrebbe davvero concretizzarsi questa cosa perché sappiamo come dicevamo che la sosta per le nazionali impegni nazionali è sempre un'ottima un'eccellente occasione comunque per riflettere sul cammino fatto finora in ottica futura sulle possibilità che ci possono essere anche sulle mosse di mercato no gennaio è molto vicino e comunque il milan deve fare almeno un paio di operazioni per completare la rosa ed essere comunque competitivo su tutti i fronti oltre alle operazioni in entrata è molto probabile che le sessioni invernali sia l'occasione giusta per provare a piazzare quelle quelle eccedenze che la società non è non è comunque riuscita a fare la scorsa estate uno di questi uno di questi ma non è lui potrebbe essere davvero luca jovic ok che ormai è fuori dal progetto del tecnico paolo fonseca non è lui quello clamoroso ma adesso lo andiamo a raccontare ma luca lalovic per certi versi è clamoroso per quello che è successo per la cattiva gestione fatta su questo ragazzo tenuto è andato la maglia numero 9 che comunque è una maglia per noi importante poi essere accantonato e essere messo da parte e poi sul mercato ricordiamo che gli ultimi giorni di mercato e estivo è stata anche l'occasione per provare a sbolognare gli ovvi cioè sono è un'operazione che io sinceramente è stato un modus operandi che io tuttora ancora non capisco escluso anche dalle competizioni europee non ha fatto un minuto in campo è incredibile la gestione di questo ragazzo è veramente negativa c'è qui qual quadra non cosa come direbbe qualcuno al contrario ma tornando a noi ci sono da valutare poi altre situazioni ragazzi i rossoneri sono comunque alle prese anche con la questione dei rinnovi c'è chi è di molto molto vicino alla firma come ad esempio mike magnanna e chi invece deve ancora comunque trovare un accordo per arrivare alla stretta definitiva come può essere comunque teo hernandez che ad oggi non ha trovato ancora la quadra per il suo rinnovo visto che chiede comunque il doppio dell'ingaggio il minano il doppio dell'ingaggio non lo sborserà mai almeno così sulla carta poi magari trovano l'accordo e diciamo e la quadra la trovano e poi c'è anche chi non ha fatto alcun tipo di passo avanti per la firma è proprio lui è il caso di davidino calabria con il quale ad oggi non c'è una trattativa avanzata ma neanche di base con lui e con il suo entourage in scadenza giugno 2025 lo sappiamo è sempre più probabili che si arrivi alla scadenza del contratto attenzione però a quello che può succedere nel mese di gennaio molto probabilmente le strade del milan e di calabria si separeranno a fine stagione lo sappiamo alla scadenza del contratto questo perché perché calabria per il rinnovo ha chiesto praticamente il doppio del contratto attuale il milan gli ha risposto se vuoi rimanere al milan calabria sia la bella ti accontenti di quello che già percepisci senza un euro in più e lui ovviamente non ci sta non ci sta perché probabilmente ritiene di essere un giocatore dal valore superiore anche a livello di stipendio quello che invece il milan non pesa e purtroppo il campo parla il campo dice che è un giocatore che non è un grandissimo terzino parliamoci chiaro ha tante lacune tante problematiche ma voi pensate che in questo momento io ritengo che sia meglio di royal da tanti punti di vista purtroppo royal è stato un bidone è stato un buco nell'acqua per adesso poi magari cambia impazzisce si rinsavisce e ridiventa quello visto al betis perché royal al betis ha fatto illuminare gli occhi a tantissime squadre europee ma tornando a calabria la separazione può arrivare addirittura a gennaio ragazzi attenzione se dovesse arrivare delle offerte concrete in estate ci aveva provato già il galatasaray ma calabria non se l'era sentita se fra poco dovesse farsi avanti qualche operazione offerta intrigante calabria potrebbe decidere di andare via in anticipo oltre a galatasaray si era fatto avanti anche lo strasburgo ma anche in questo caso non se ne è fatto assolutamente nulla lui è rimasto per provarsi a giocare le sue carte e vincere la guerrita concorrenza con royal acquistato appunto in estate dal tottenham per ben 15 milioni di euro più bonus sono più o meno 18 un colpo questo che sapevamo tutti ha tolto il ruolo di titolare al capitano che ha saltato comunque tante partite vuoi per il problema al polpaccio e i problemi legati comunque alle vicende societari che lo vedo direttamente collegato lui vorrebbe restare ma le sue condizioni ma non c'è nessun segnale comunque per il rinnovo se a gennaio dovessero comunque aprirsi strade interessanti in italia ma non solo non è da escludere comunque un clamoroso addio anticipato dopo più di dieci anni lui è in rossonero ricordiamo da quando era solo un bambino aveva dieci anni ora ne ha più o meno 27 se non sbaglio no e purtroppo questa è figlia è figlia poi di una forse di una gestione forse del fatto che è un giocatore che ritiene di essere al di là delle aspettative ma in un certo qual modo è figlio anche di una cattiva gestione perché quando tu vai a prendere messo royal a 15 18 milioni stai praticamente dicendo calabria è bocciato quando dai via anche calulu e stai concentrando le tue energie economiche solo su emerson royal spendendo ben 15 più 3 quindi 18 milioni bonus hai già detto calabria che è stato messo da parte e a quel punto sarebbe stato doveroso secondo me o trovare già un rinnovo con calabria o provare a mandarlo via nel senso che non è da oggi non è dal tempio emerson royal che calabria comunque non trova l'accordo per il nuovo e non è felice di quello che sta succedendo e ha già deciso che non avrebbe rinnovato è da prima di emerson royal quindi anche qui entra in gioco una cattiva gestione da parte società a livello dei rinnovi contrattuali e io vi ricordo sempre che i cartonati d'altra parte di milano comunque tutto sommato nonostante possono essere tutto quello che volete ragazzi possiamo odiarli quanto volete ma però a livello ma però non si dice però a livello gestionale a livello di rinnovi questi hanno fatto sei rinnovi in sei mesi ragazzi octree il fondo ha fatto sei rinnovi in sei mesi il fondo perché c'è fondo e fondo ci sono i pezzenti gli incapaci e poi ci sono quelli che comunque nonostante sia un fondo nonostante sia americano come dice qualcuno sanno fare quello che devono fare e probabilmente hanno anche più ambizioni ragazzi poi sta a voi capire chi è uno e chi è l'altro ma non penso che sia difficile fatemi sapere cosa ne pensate un abbraccio grandissimo intanto vi auguro buona giornata sempre comunque comunque forza milan noi sentiamo più tardi e adieu